Morto a causa del cibo. Sono Omar Palermo. Conosciuto su YouTube come YouTube anche io. Sono nato nel 1979 a Rossano. E nel 2017 ho iniziato la mia avventura su YouTube condividendo brevi video sui miei adorati uccelli da compagnia. I bengalini. La passione per la piattaforma mi ha spinto a esprimere le mie passioni e interessi con il vasto pubblico di YouTube. Il canale ha iniziato a crescere gradualmente. Ma la vera svolta è arrivata con un video in cui mangiavo una pizza capricciosa davanti alla fotocamera. Da quel momento, la mia popolarità è esplosa. E nel giugno del 2019 ho raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni e oltre 300.000 iscritti. Nonostante il successo, sono sempre rimasto una persona modesta e affabile, sia online che nella vita reale. I miei follower apprezzavano i miei modi gentili e il mio rispetto per gli altri e la comunità. Al di fuori del mondo di YouTube, ero un appassionato di NBA e di storia. E durante l'inaugurazione di una palestra nella mia città di Rossano, ho svelato di aver praticato il bodybuilding da giovane. Un aspetto della mia vita che molti seguaci trovavano sorprendente considerando il mio aspetto corpulento. Sebbene fossi consapevole del mio eccessivo consumo di cibo, ho continuato a mangiare e ad avvertire i miei follower di non fare lo stesso. Purtroppo, all'inizio del 2021, ho subito un infortunio che mi ha portato in una clinica per un ricovero. La mia salute è stata motivo di preoccupazione per i miei fan, ma nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto successivamente. Dopo poche ore, a soli 42 anni, ho perso la vita a causa di un infarto. La notizia della mia morte ha scosso i social media e il web, lasciando i miei fan addolorati e angosciati. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno seguito il mio percorso su YouTube e che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. Il vostro affetto e il vostro apprezzamento sono stati il motore della mia avventura online.